Benvenuti in questo nuovo video dove torniamo a recensire una nuova uscita del giornalino AnimeCult.it Giriamo l'immagine! Che cosa parla questa uscita, sesta uscita di AnimeCult.it? Parla di Lady Oscar e il Dietro le Quinte, intervista a Ryoko Ikeda. Massimiliano Alto, la voce di Ramma, Inuyasha e tanti altri. Ben, il mostro umano, quando la violenza arrivò in tv. Gli album anni 70-80. Robot, orfanelli, pirati spaziali. E che cosa vediamo nella prima pagina subito dopo la copertina? Summer Camp Designer in Town. Dai 14 ai 19 anni. Architettura, designer, scrittura creativa, grafica, comunicazione, moda, illustrazione, video, fotografia. Insomma, se volete saperne di più su Summer Designer in Town, basta che andate su designintown.org, questo sito qui. Cosa ci insegnano di Oscar? Qui, il direttore di questo giornalino, ci dice che praticamente lui, per fare questo giornalino, ha dovuto rivedere tantissimi cartoni animati. Ma alcuni cartoni animati che guardava da piccolo, da grande l'hanno un po' deluso. Mentre altri sono rimasti fedeli a quello che pensava lui da piccolo. E ci dice anche che cosa ci insegna Lady Oscar. Nelle prime pagine vediamo il sommario. Il sommario che ci manda direttamente all'articolo che noi vogliamo vedere. Se vogliamo vedere l'intervista a Ryoko Ikeda, dobbiamo andare a pagina 32. Se vogliamo vedere collezionismo, passione, figurine, robot, orfalelli e pirati, dobbiamo andare a pagina 90. Insomma, il sommario ci manda direttamente all'articolo che ci interessa. Ma come vediamo da questa pagina e da questa immagine, si parlerà principalmente di Lady Oscar e della sua creatrice Ryoko Ikeda. Violenza in tv. Bem, il mostro umano e altri brutti ceffi, ma buoni. Bem, il mostro umano era un cartone animato di pochissimi episodi e i protagonisti erano Bem, vero e vera, che erano nati mostri. E tutti avevano paura di loro. Ma nonostante loro avessero questo brutto aspetto, erano buoni e odiavano soprattutto le ingiustizie. e cercavano di fare, in tutti i modi, di fare giustizia, usando anche la violenza. Ad esempio, Bem, quando si arrabbiava, si trasformava in questo mostro marrone. Bera, invece, si trasformava in questo mostro viola con i capelli fucsia. Bero diventava questo mostriciatolo qua. Ma nonostante il loro aspetto, loro erano buoni e lottavano per la giustizia. Il finale a sorpresa. Bem, il mostro umano, come vi ho detto prima, aveva pochissimi episodi, solamente 26. E perché il finale a sorpresa? Perché questo cartone animato finisce con un finale aperto. Praticamente i protagonisti vanno via e non si sa dove vanno. Ma non solo loro usavano la violenza per fare giustizia. Violenza protagonista. La potevamo vedere anche in Sam, il pistolero, e nell'uomo tigre. Anche loro usavano modi violenti per fare giustizia. Precisa una cosa, che la giustizia non si fa mai con la violenza. La violenza non va mai usata in nessun modo. Però questo era quello che ci insegnavano questi cartoni animati. Ma soprattutto ci volevano insegnare questi cartoni animati, soprattutto Ben, credo, che nonostante l'aspetto non bisogna mai giudicare le persone. Punto. Voglio finirla così qui. Massimiliano Alto, bravo per caso. Perché bravo per caso? Perché come vedete da queste foto qua, Massimiliano Alto ha cominciato, che era piccolissimo a fare il doppiatore. E i suoi personaggi principali nel mondo delle anime sono Ranma e Inuyasha. Lui è stato la prima voce di Inuyasha, poi è stato sostituito da Francesco Pezzulli. Andiamo avanti. Qui vediamo Massimiliano, insieme alla sua compagna Giulia Nofri, che era un'adattatrice di doppiaccio, ma è diventata anche una direttrice del doppiaccio. E Massimiliano dice che è più brava di lui. Perché Massimiliano Alto, oltre a fare il doppiatore, fa anche il direttore del doppiaccio. Una famiglia tutta impicciata nel doppiaccio. Perché? Perché Massimiliano Alto era figlio d'arte. E sua mamma era Ugetta Lanari. Questa signora qua. Questi sono alcuni personaggi che Massimiliano Alto ha doppiato nel mondo delle anime. Devo dire la verità, questo qua non lo conosco. Se sapete chi è, fatemelo sapere sotto nei commenti. Questo è Schneider, di Olly e Benji. Lui doppiava Schneider in Olly e Benji. Questo è Johnny. Io lo chiamo Johnny. Come sappiamo tutti, è quasi magia Johnny. Era stato doppiato a Milano. Però poi è stato fatto un ridoppiaggio a Roma con il titolo originale e i nomi originali. Si intitolava Orange Road The Movie. E lui doppiava la voce protagonista quando è stato fatto il doppiaggio a Roma. Andiamo avanti. Qui vediamo sempre Massimiliano Alto nella sua prima passione, cioè la musica. Lui faceva parte di una band. La musica era la sua prima passione, più grande passione forse. Qui invece lo vediamo in compagnia di suo figlio Adrian, dieci anni. Anche lui ha seguito le orme del padre. Fa il doppiatore. Qui vediamo un altro personaggio. Anche questo non lo conosco. Se lo conoscete, fatemelo sapere chi è. Che ha sempre doppiato Massimiliano Alto. Qui vediamo Inui Asha. Ramma. In Ramma lui doppiava la versione maschile, mentre la versione femminile di Ramma era Monica Ward. La mia repulsione per i social. Noi non ama tanto i social. Andiamo avanti. Go, la zinga e Capitan Sherlock. Giapponesi, i madi. Madi in Italy. Qui sono un po' così, perché gli italiani hanno cercato di imitare i manga giapponesi per ottenere lo stesso successo che in quegli anni avevano ottenuto i manga in Italia. Però diciamo che non ci sono riusciti tanto bene, perché Go, la zinga, magari voleva essere una copia di Godzilla, Heidi, Remy, Capitan Sherlock. Insomma, erano tutte copie per imitare quello che i giapponesi facevano. Ma diciamo che questi, secondo me, sono semplicemente fumetti, ma si vede benissimo che non sono manga. qui è uguale, parla sempre di sto Go, la zinga o Go, la zinger, la storia, tutto quello che raccontava. Sì, cercavano in tutti i modi di imitare il manga giapponese, ma diciamo che, secondo me, non ci sono riusciti, soprattutto nel disegno. Il disegno si vede benissimo che non è giapponese, perché i giapponesi non disegnavano gli occhi così e i visi così. Facevano disegni completamente diversi. Il successo giapponese, praticamente, anche se cercavano altri stati, altre regioni, altri stati del mondo di imitarli, erano inimitabili. Nel mondo del manga i giapponesi sono sempre rimasti il numero uno. Nessuno è mai riuscito a copiare il loro successo. Great Toucher Onizuka. Che cos'è? GTO, ragazzi. GTO, Great Toucher Onizuka. Gli insegnamenti di un moto teppista. È GTO. Dovete sapere che GTO è stato creato nel 1996 il manga e nel 1998 ha vinto la ventiduesima edizione del premio Kodansha per il manga nella categoria Miglior Shonen. L'anime è stato creato nel 1999 e aveva 43 episodi. In Italia è arrivato nel 2002 su MTV. Che cosa racconta GTO? Racconta la vita di Onizuka. Onizuka era un 22enne che prima faceva parte di una gag di motociclisti, ma poi ha deciso di cambiare la sua vita e diventare un insegnante. Lui principalmente voleva andare a insegnare nelle scuole superiori. Però un giorno una direttrice gli ha assegnato una scuola, una classe di terza media. una classe di terza media veramente veramente complicata perché tutti quelli che insegnanti che insegnavano in questa classe si sono licenziati. La direttrice che ha deciso di assegnare questa classe a Onizuka sapeva che lui ci sarebbe riuscito. Onizuka andava ad insegnare anche vestito in modo particolare ad esempio vestito da chimia e viaggiava sempre a bordo di una moto. Una moto tipo queste. Queste moto andavano tantissimo in quegli anni in Giappone. Come vedete questa è quella di GTO e queste erano quelle moto originali che andavano in quegli anni negli anni a fine anni 90 in Giappone. Facce, buffe, citazioni. Lui faceva tantissime facce, buffe e qui vediamo alcune immagini delle sue facce e tantissime tantissime citazioni insomma molto era un cartone anche molto divertente. Insomma nonostante fosse così giovane Onizuka aveva solamente 22 anni e faceva uno stage in questa classe di terza media lui è riuscito a conquistare i ragazzi e a far sì che questi ragazzi andassero nella giusta via. I ragazzi di questa classe si sono affezionati ad Onizuka è stato l'unico professore nonostante lui faceva solamente uno stage mentre tanti altri professori che erano più esperti di lui dopo qualche giorno dopo aver insegnato in quella classe per qualche giorno si licenziavano subito lui invece non l'ha fatto abbonati a animecult.it la ricevi a casa appena stampata se fai una scansione oppure vai su questi siti qua tu ti puoi abbonare animecult.it e ricevere a casa il giornalino prima che esca in edicola appena stampato qua vediamo speciale Lady Oscar intervista a Rio Cucchieta la vita in breve una rosa tante rose il manga di Lady Oscar oltre Oscar caro fratello arriva l'anime curiosità e censure un mondo di gadget altre rose altre storie altri ma oltre il manga dopo l'anime andiamo avanti Rio Cucchieta la donna oltre l'artista dovete sapere che Rio Cucchieta prima di diventare una mangaka lei studiava al conservatorio studiava lirica voleva diventare una cantante lirica però la sua passione per i manga era così grande che ha deciso di lasciare il conservatorio negli anni settanta quando è stato creato Versailles Nobarra lei aveva una grandissima passione per la rivoluzione e il suo manga si doveva ispirare soprattutto a Maria Antonietta andiamo avanti ma lei non è stata solamente non ha avuto successo solamente con Versailles Nobarra con i manga ha creato anche la finestra di Orfeo che ha avuto un grandissimo successo nel mondo dei manga Claudine uguale un altro successo della Ikeda nel mondo manga e come vediamo qui dai disegni si riconosce benissimo lo stile di Ryoko Ikeda qua invece la vediamo in versione cantante lirica perché perché nonostante lei negli anni settanta abbia lasciato il mondo della lirica per diventare una grandissima mangaka e aveva avuto cominciato ad avere anche successo come mangaka ha deciso negli anni 2000 di riprendere gli studi per studiare la sua grande passione la lirica quindi è ritornata a diventare anche una cantante lirica Ryoko Ikeda la rivoluzione degli show che cosa significa allora dovete sapere che nonostante Ryoko Ikeda facesse un lavoro maschile perché in quegli anni negli anni settanta il lavoro del mangaka era un lavoro tipicamente maschile lei veniva le donne in genere venivano sottopagate pagate di meno degli uomini le donne che facevano un lavoro da uomo venivano pagate di meno e lei ha chiesto perché nonostante io facessi tutte le cose che fanno un uomo vengo pagata di meno e la risposta è stata perché una donna in quegli anni doveva stare a casa con i figli e accudire casa e quindi l'uomo veniva pagato di più perché doveva mantenere moglie e figli mentre una donna non doveva mantenere nessuno questo questa diversità e questo suo volere di uguaglianza fra uomo e donna l'ha fatto creare un personaggio come Lady Oscar Lady Oscar doveva rappresentare proprio questo cioè la difficoltà di una donna di fare in quegli anni di fare un lavoro da uomo insomma doveva rappresentare l'uguaglianza fra uomo e donna il suo personaggio principale andiamo avanti un altro manga che ha fatto Ryoko Ikeda è su Napoleone Bonaparte e come vedete in queste immagini dovete sapere che Napoleone Bonaparte ha fatto un piccolo cammeo anche nel manga di Lady Oscar anche se nell'anime non si cita nemmeno il nome di Napoleone non se ne parla nemmeno nell'anime andiamo avanti una rosa tante rose il manga di Lady Oscar allora che cosa significa dovete sapere che il manga di Lady Oscar inizia con tre nascite nello stesso anno il 1755 in Svezia nasce il conte Hansakse di Versen in Austria nasce la principessa Maria Antonietta che ha un nome lunghissimo Maria Antonietta Giuseppe Gian d'Asburgo Lorena nasce in Austria figlia di Maria Teresa in Francia nasce Oscar in un palazzo aristocratico non molto lontano da Versailles André dunque è stato chiesto a Rioco chieda perché André è così amato così e Ioco chieda ha risposto che al fianco di Oscar serviva un uomo come André cioè che non facesse differenza la differenza di una donna che faceva il lavoro di un uomo a quei tempi un uomo non accettava che una donna faceva un lavoro maschile mentre André questo non importava e quindi a fianco di Oscar serviva un uomo così così ha risposto la Ikeda che cosa significa un che cosa significa una rosa tante rose significa che ogni donna di questo manga rappresentava il colore di una rosa il colore rosso era rappresentato da Maria Antonietta il colore bianco rappresentava Lady Oscar il colore rosa rappresentava Rosalie il colore giallo che cosa significa una rosa tante rose allora ogni donna che faceva le donne protagoniste di questo manga rappresentavano il colore di una rosa il colore della rosa rossa lo rappresentava Maria Antonietta il colore della rosa bianca era Lady Oscar il colore della rosa rosa era Rosalie la rosa gialla era rappresentata dalla contessa di Polignac e la rosa nera era rappresentata da Sean da Sean Baloo Sho Shoimanga che cos'è Shoimanga praticamente come vedete tutti i manga di Lady Oscar sono i disegni nel manga di Lady Oscar sono rappresentati in versione verticale era uno stile lo Shoimanga praticamente in una pagina si rappresentava una figura e intorno c'era tutte le vignette che rappresentavano l'anime ma principalmente il disegno veniva rappresentato in modo verticale e riempiva quasi tutta la pagina questo era lo stile Shoimanga andiamo avanti le fonti di ispirazione dovete sapere che per disegnare Lady Oscar la Ryoko Ikeda si è ispirato ad un attore svedese pensate proprio un attore svedese guarda caso che in Giappone aveva un grandissimo successo si chiama Bjorn Johan Andris questo attore svedese qua svedese qua e infatti come vedete c'è un po' di somiglianza con la giovane Lady Oscar e per creare Lady Oscar Ryoko Ikeda si è ispirato a questo giovanissimo attore svedese che in quegli anni e tuttora ha un grandissimo successo in Giappone qua vediamo la famiglia Cerce qui vediamo una parte diciamo del manga che era stato ristampato in Italia cioè il momento in cui nasce Lady Oscar e il padre decide di farla crescere come un maschietto la Lady Oscar italiana dovete sapere che in quegli anni c'era una donna italiana che faceva il militare e quindi viene soprannominata la Lady Oscar italiana e si chiamava Francesca Scanagatta lei nonostante fosse una donna faceva un lavoro da uomo faceva il militare e per questo la Lady Oscar italiana era andiamo avanti caro fratello altre forme d'amore allora che cosa racconta caro fratello racconta la storia della protagonista che si chiama Nanako Nanako veniva è stata mandata a studiare in una scuola tutta femminile credo che sia dove non si faceva differenza fra amore femminile e amore maschile cioè fra amore fra uomo e uomo fra donna e donna e fra donna e uomo c'erano varie forme d'amore in questo manga e perché si intitola caro fratello perché Nanako scriveva sempre a suo fratello scriveva quello che gli succedeva all'interno di questa scuola tutti i suoi pensieri i suoi sentimenti li scriveva in una lettera e li mandava a suo fratello caro fratello è un manga della Ryoko Ikeda di fine anni e 90 ma è stato anche creato l'anime nonostante avesse la stessa mamma diciamo di Lady Oscar non ha avuto lo stesso successo che ha avuto Lady Oscar ma comunque possiamo vedere da qui da questa immagine Nanako sembra una giovanissima Lady Oscar lo stile di Ryoko Ikeda è secondo me inconfondibile nel disegno se se vedi un cartone animato o un manga se vedi solamente le immagini capisci subito che quello è di Ryoko Ikeda perché veramente ha uno stile molto molto particolare possiamo vederlo anche qui da questa immagine si vede Lady Oscar qui e Nanako qui sono uguali identiche la versione anime è un mito senza tempo allora dovete sapere che prima di fare la versione anime per convincere la Ryoko Ikeda si sono voluti nove anni non voleva che si facesse un anime poi sono riusciti a convincerla qui c'è scritto la versione anime è un mito senza tempo allora dovete anche sapere che l'anime appena è arrivato in Italia nel 1982 è stato un boom di successo ma in Giappone non ha avuto lo stesso successo che ha avuto in Italia in Giappone ha avuto più successo il manga le censure nell'anime ci sono state anche alcune censure qui vediamo un'immagine dove Rosalie crede che Oscar fosse un uomo e si presta a lei per avere dei soldi e comprare le medicine a sua madre se nell'anime Rosalie è una semplice ragazza di Parigi dovete sapere che nel manga Rosalie faceva la prostituta e ci sono state alcune censure anche nelle scene tra Andrè e Lady Oscar ecco qui vediamo un'altra scena la scena in cui Maria Antonietta a Maria Antonietta diventano i capelli tutti bianchi dalla paura perché perché il popolo era arrivato a Versailles e lei dalla paura i suoi capelli sono diventati bianchi qui invece è una scena di Maria Antonietta che era già stata imprigionata poco prima della decapitazione Oscar e Lupin dovete sapere che il personaggio di Oscar ha fatto un piccolo cammio nelle puntate di Lupin e questo cammio l'ha fatto pochi giorni prima in Giappone questo venti giorni prima dell'uscita dell'anime di Lady Oscar perché per fare per per fare un po' di pubblicità a questo personaggio per una questione diciamo di soldi ma qui vediamo anche che Lady Oscar appare in modo molto scherzoso anche in altri cartoni animati come i Pokémon occhi di gatto Ranma sì insomma le citazioni su Lady Oscar in modo molto scherzoso in altri anime dalle figurine al vino pregiato un mondo di gadget qui vediamo tutti i gadget che rappresentavano Lady Oscar all'inizio si erano fatti gadget solamente per la scuola cioè quaderni libri astucci solo cose per la scuola poi più andava avanti e più aveva successo sono stati creati altri gadget qui vediamo l'ombrello qui vediamo le ciabattine possiamo vedere il castello l'album di figurine pensate che il contenitore dove si tenevano l'album di figurine se lo troviamo adesso solamente il contenitore vale tantissimi soldi solo che a quei tempi quando il giornalaio vendeva tutte le figurine il contenitore lo buttava via quindi è difficilissimo trovarlo ma pensare che se troviamo questo contenitore o lo abbiamo da qualche parte vale veramente tantissimi tantissimi soldi ma tutti i gadget che ci possono essere di Lady Oscar adesso valgono tantissimi soldi qui vediamo una bambola qui vediamo il gioco di Lady Oscar Lady Oscar con il cavallo le bevande addirittura hanno fatto anche un gadget sul film di Lady Oscar perché dovete sapere che nel 1979 era stato fatto un film movie di Lady Oscar anche se è stato fatto prima dell'uscita in Italia di Lady Oscar in Italia è stato mandato in onda dopo l'uscita dell'anime grazie al successo dell'anime e avevano addirittura messo gli stessi doppiatori per ricreare lo stesso successo ma purtroppo il film è stato un flop totale qui vediamo le patatine vediamo tantissimi tantissimi gadget addirittura il profumo profumo di rosa il peluche la crema corpo questa bambola veramente molto particolare vestita da donna Lady Oscar quando è andata al ballo vestita da donna questa bambola è veramente particolare il servizio da te con il viso di Lady Oscar e di Andrè stampato sopra i vini pregiati con stampati i disegni di Lady Oscar Monica Moretto è una collezionista e colleziona tantissime cose come vediamo qui ha collezionato la bambola di Lady Oscar e ha anche la maglietta di Lady Oscar che si vendeva in Max & Co insomma tantissime tantissime cose allora oltre il manga dopo l'anime altre rose altre storie dovete sapere che finito il manga finito l'anime Ryoku Ikeda ha fatto un altro piccolo manga sempre di Lady Oscar dove Oscar e Andrè andavano a trovare la sorella di Lady Oscar come sapete Lady Oscar è figlia del generale Chargé che aveva avuto sei figlie femmine con Lady Oscar Lady Oscar aveva cinque sorelle più grandi e quindi andando a trovare la sorella maggiore incontra questa bambina che è la sua nipotina Louis de Laurier di sei anni era la nipotina di Lady Oscar e sono stati fatti altri capitoli con questa bambina protagonista e Andrè e Oscar qui vediamo che è stata fatta anche la versione Kibi diciamo della manga di Lady Oscar qui lo vediamo tradotto in italiano insomma queste invece sono delle immagini create da una artista italiana pensate un po' e le ha create benissimo si chiamava si chiama scusate Laura Luzzi e ha fatto queste immagini di Lady Oscar che sono molto molto simili all'originale qui vediamo il la copertina del teatro perché in Giappone sta Lady Oscar è andato anche a teatro ed è stato un grandissimo successo qui vediamo invece la copertina del film come vi ho detto prima il film purtroppo è stato un flopper un film un po' scarso la tua tv vintage super six www super six lombardia punto it in questi siti che vi dirò adesso potete trovare tutti i cartoni animati vecchi di quegli anni cioè la tv vintage la tv dei ragazzi di ieri e di oggi junior tv www junior tv punto it in questi siti trovate tutti i cartoni che guardavamo da piccoli tutte le anime qui anche eh ben il mostro umano detto tra noi che cos'è detto tra noi qui potete scrivere la vostra letterina e loro vi rispondono basta che scrivete anime posta chiocciola spreacomics punto it questo è il sito dove voi potete scrivere chiedere quello che volete in quegli anni è esploso anche il manga adatto agli adulti quello un po' più erotico esplora conoscere e gioca l'erotismo degli altri e uno dei più famosi era il complesso di Lolita qui vediamo che dal 31 marzo si può trovare in edicola Bim Bum Bam Story con il cd di delle sigle dei cartoni animati cantate dalla meravigliosa Cristina Davina e lo trovate in edicola al prezzo di 12 euro e 90 Federico Colpi un italiano a Tokyo cosa significa dovete sapere che Federico Colpi aveva una grandissima passione per i fumetti solo che quando era piccolo nel suo piccolo paesino non c'era nemmeno un'edicola e i fumetti venivano venduti la domenica in una piccola bancarella che vendeva giornalini ed esistevano solamente quelli di Topolino e Tex la passione per i fumetti gliel'hanno trasmessa i suoi genitori un giorno Federico Colpi ha anche cercato di creare fumetti ha fatto piccoli fumetti è durato per un po' poi ha deciso di lasciare tutto e studiare altro un giorno gli è capitato di andare in Giappone è andato in Giappone per una piccola vacanza ma ci è restato per più di 30 anni diciamo che è in Giappone che cosa fa in Giappone lui allora all'inizio è stato difficile però piano piano è riuscito a diventare quello che fa da tramite fra l'Italia e il Giappone cioè fa da tramite fra i manga giapponesi che arrivano in Italia e aveva avuto anche un'idea cioè di far sì che è stato uno dei primi ad avere l'idea che i mangaka andassero ai romix italiani e il primo è stato Nagai il creatore di Goldrick in quegli anni in Italia Goldrick aveva un grandissimo successo così lui aveva avuto l'idea di chiedere a Nagai di andare o a Roma o a Lucca andare come ospite ma quando fece questa proposta tutte le stampe la stampa italiana l'ha un po' deriso e quando Nagai ha visto che la stampa italiana derideva questa sua offerta che lui andasse in Italia a Romix o a Roma o a Lucca Comics quasi voleva rifiutare l'offerta ma Federico Conti è riuscito a convincerlo che doveva andare lo stesso nonostante ci fu questo rifiuto della stampa e lui andò Nagai il creatore di Goldrick candò a una rappresentazione di fumetti italiana e fu un folla di ci fu una folla enorme un successo enorme quindi Federico Conti aveva ragione è stato un successo grandissimo andiamo avanti qui vediamo Dragon Ball vediamo tutto insomma quelli che rappresenta un po' Federico Conti qui vediamo Ognore ai caduti queste sono quei manga che hanno cercato di avere successo ma che però sono durati per un periodo e poi sono finiti non hanno avuto il successo che credevano di avere insomma qui uguale l'ospite indesiderato Lodos tutti quei manga che sono andati avanti per un po' però non hanno avuto il successo che meritavano qui Gingu Gingu e Ser Gingu e Ser che cos'è sempre un cartone animato un manga del 1977 che poi è diventato un anime derivato da noi nel 1982 su rete 4 andava in onda questo Gingu e Ser il magico robot questo cartone animato che cosa aveva di diverso dagli altri robot se tutti gli altri robot per sconfiggere i cattivi si univano tra loro questo robot non si univa cioè aveva quattro protagonisti e il suo mentore ed erano quattro robot tre robot e due un'astronave scusate ma non si univano tra loro e dovevano sconfiggere i cattivissimi che avevano il potere dello scorpione caos necuma necuma dei sazoriani e l'indovina salome erano questi i nemici che avevano il potere dello scorpione sao e loro viaggiavano all'interno di questo camion per inseguire i cattivissimi che avevano il potere dello scorpione caos e fermarli per poterli sconfiggere qui vediamo invece passione figurine le figurine di ciclo d'acciaio di Remy e a quei tempi le figurine le potevi trovare dappertutto pensate che le figurine per completare l'album di Remy le potevi trovare addirittura nel budino Danone le figurine a quei tempi si vendevano dappertutto anche con le bevande con gli yogurt con dappertutto avevano un successo enorme e passavano dai robot agli orfanelli ai a capitano Arlok insomma qui ci fa vedere anche come erano all'interno ad esempio qui abbiamo un capitano Arlok senza testa dovevi trovare la testa di capitano Arlok oppure quattro figurine che componevano una figura sei figurine che ne componevano un'altra ma non c'erano solamente le figurine dei cartoni animati o dei manga ma c'erano anche le figurine dei personaggi famosi e dei politici dal successo che avevano le figurine in quei tempi avevano fatto addirittura le figurine di calcio personaggi famosi politici di tutti i tipi ne avevano fatte gli ufobotos che cosa sono gli ufobotos è diciamo che volevano copiare quei giocattoli della quei giocattoli dei cartoni famosi come ufobotos ad esempio qui vediamo le astronavicelle le navicelle queste sono quelle fitizie queste sono quelle originali uguale qui questa è quella fitizia e questa è quella originale volevano copiare i giochi dei cartoni animati giapponesi ma con delle piccole diversità con robot ad esempio questo robot qui questo robot qui potevano sembrare del cartone di ufobotos ma non erano così avevano qualcosa di diverso potevano avere la maschera diversa la scritta diversa insomma per fare capire che non erano l'originale andiamo avanti qui vediamo l'arte dei fiori l'arte di guardare i fiori vi ricordate i fiori in ciliegio gli alberi di ciliegio apparivano quasi in tutti i cartoni animati come la maiso i koku ce ne erano veramente tantissimi tu guardavi i cartoni animati e a un certo punto apparivano questi alberi di ciliegio che apparivano nel periodo delle piogge in quegli anni in Giappone si trasformava tutto in rosa era una moda tutto diventava rosa qui possiamo vedere anche il famoso fantasmino che loro chiamavano lo scaccia pioggia quando nascevano questi alberi di ciliegio rosa in Giappone si trasformava tutto di rosa anche le confezioni del kit kat qui possiamo vedere macchinine cose varie tutto rosa diventava in Giappone era una vera e propria moda c'era anche una festa qualcosa del genere cantori di Milano i piccoli cantori di Milano chi sono i piccoli cantori di Milano? è il coro praticamente il coro che veniva chiamato a fare quelle voci fuori campo delle sigle di serie tv o di o di cartoni animati o di programmi televisivi qui ad esempio possiamo vedere i piccoli cantori di Milano insieme a Lorella Cuccarini ma loro hanno lavorato tantissimo anche con Cristina D'Avena facendo il coro di vari cartoni animati come il coro dei puffi delle canzoni dei puffi di Palla al centro per Rudi di Prendi il mondo e vai Occhi di gatto Pogli Anna Mila e Sciro il coro erano loro i piccoli cantori di Milano dovete sapere che la creatrice era adesso lo vado Nini Comolli che poi ha passato il testimone a sua nipote Laura e qui possiamo vedere proprio l'intervista viene fatta proprio a Laura altri cartoni che hanno fatto ad esempio sono stati il coro di Olli e Benci e i ragazzi della Senna la Stella della Senna Cristina Davena in Chismilicia Memole Dolce Memole e ci dice anche che questi bambini venivano scelti non tutti non tutti andavano a Milano da Mediaset a fare o una sigla o una serie tv o un cartone animato i suoi i bambini erano talmente tanti che venivano divisi ma non perché non erano adatti per quella serie tv ma perché ci dice Laura i bambini devono fare anche i bambini quindi se avevano un loro impegno lei non li chiamava magari chiamava altri bambini perché i bambini devono fare anche i bambini non devono solo lavorare e qui vediamo invece una foto storica di Nini comelli quando era l'inizio del suo coro ecco passaggio di testimone andiamo avanti qui vediamo recensione anime qui vediamo le recensioni ai manga qua possiamo vedere recensioni saccistiche che qui vediamo anche una recensione al primo episodio di Lady Oscar nel primo episodio di Lady Oscar dice qui recensioni fuori tempo massimo che Lady Oscar ha subito un po' una violenza da due uomini che sono suo padre e come vediamo qui che vi ricordate nel primo episodio suo padre voleva che lei proteggesse Maria Antonietta e lei si rifiutava e lui la picchiava e lei addirittura è caduta dalle scale questa era subito una violenza invece l'altra da André perché perché proprio nel primo episodio Lady Oscar aveva questo dubbio aveva questo dubbio se essere maschio o femmine vi ricordate che a un certo punto ci fu una lotta fra Lady Oscar e André poi Lady Oscar se ne va e André gli dice Oscar fermati diventa una donna insomma qui è stato recensito questa frase questo momento come violenza e quindi come se Lady Oscar nel primo episodio ricevesse la violenza da due uomini ecco scriveremo uno speciale sul pen terzo Sanpei il ragazzo pescatore un manga in 65 volumi e un anime di 109 episodi sul ragazzino col cappellone di paglia chi l'avrebbe mai immaginato pescare è divertente Marco Marcello Lupoi Star Comics Panini Comics da 30 anni protagonista delle scene editoriali italiane e testimone diretto dello sbarco dei manga poi vediamo lo chiamavano il Corrierino il Corriere dei piccoli insomma questo è quello che vedremo nel prossimo numero nel numero 7 di anime cult.it e questo è quello che abbiamo visto in questo numero bene se vi è piaciuto questo video lasciate like a questo video iscrivetevi al canale e io adesso vi mando un bacio enorme un sorriso grandissimo che non vedete ma ve lo mando un saluto enorme e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao